La parrocchia di San Giovanni Bosco ha ospitato lo scorso lunedì 28 aprile l'incontro del Vescovo Antonio con sacerdoti e diaconi del vicariato Quarta Zona Cittadina nell'ambito della visita pastorale. Un importante momento di condivisione e confronto moderato da Monsignor Franco Borsari ed introdotto da Remo Feverati, diacono di San Faustino. Ho cominciato l'altro giorno con i bambini dalla scuola della casa famiglia ed è bello aver iniziato con loro proprio perché sono la nostra speranza quindi da un'intonazione, questo ha dato un'intonazione già alla visita. Stasera è l'incontro con i presbiteri, con i sacerdoti e con i diaconi permanenti. Una zona possiamo dire che è ricca, popolata ma anche ricca ancora di sacerdoti e soprattutto ricca di diaconi permanenti quindi dalla loro presenza potremo trovare proprio anche delle indicazioni per valorizzare la ministerialità proprio anche in tutte le parrocchie. Monsignor Lanfranchi ha sottolineato inoltre il valore del ruolo dei diaconi permanenti all'interno della vita parrocchiale. Rappresentano proprio una bella risorsa perché indicano proprio quella che per me è anche la natura della Chiesa. Tutta la Chiesa deve essere ministeriale, deve essere al servizio, avere dei diaconi permanenti che hanno come specifico proprio il servizio porta tutta la Chiesa a sentirsi in servizio quindi anche a promuovere tante altre ministerialità che costituiscono un po' l'anima della parrocchia, delle parrocchie. Questa sera l'incontro è strutturato, vuole essere strutturato un po' come finora ho trovato che è molto proficuo strutturarli. C'è un momento da parte mia di ascolto, di condivisione di quello che è la realtà per poi anche rilanciare un po' quello che emergerà e condividere eventuali domande e altri interventi. Ecco questa è un po' la struttura dell'incontro.